...di tanti eventi che organizzeremo insieme, con il quale abbiamo coinvolto tutte le scuole laziali ed è stato veramente bello vedere come le scuole laziali hanno raccolto questo evento. Siamo partiti con delle richieste fondi di partecipazione, purtroppo poi abbiamo coinvolto rigore a solamente 600 per motivi di sicurezza, ma le scuole laziali hanno risposto alla grande perché il tema della legalità è un tema che viene trattato tutti i giorni all'interno delle scuole e questo evento che ci porta a visitare il palazzo della giustizia ci consente di capire qual è il lavoro dei magistrati, qual è il lavoro degli avvocati, di coloro che ci difendono. E quindi ben arrivati, grazie ai professori che mi hanno accompagnato e nonostante vi sopportano durante la settimana, vi hanno sopportato anche oggi come non ciò, vi da un applauso più o no, certo, e poi scusatemi, io non so che ci sono anche i dirigenti scolastici, i tanti di tupirati dirigenti scolastici, bravi, ben arrivati e state con voi. Allora, io sono Giorgio Marco dell'Associazione Magistrati Roma e Lazio, rappresento anche gli avvocati, il salato amministrativo, la RAI, tutti quelli che ci hanno allonato, tutti quanti, perché questa è una bella idea, ma ha camminato sulle gambe di tantissime persone. Comunque rappresentanza delle autorità presenti, io rappresentavo, non è ma titolo rappresentativo perché sono tantissime persone che ci hanno venuto bene nel percorso, chiameremo alcune persone e approfondimenti per ogni persona ci dovrà essere un'opazione, tipo calcio, tipo staglio. Prima di tutto il sindaco, Ignazio Marino. Benvenuti in luci. Presidente della Corte d'Appello di Roma lo stanno avanzando. Il Procuratore nazionale di Grascia, Franco Roberti. Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Mario Vaglio. Il Consigliere delegato dal Presidente della Regione Zingaretti, Giancarlo Zambelli. Il Consigliere del Papo Polestale senza le padroni. Consigliere GSM, Paola Balducci. Consigliere GSM, Luca Paramara. Consigliere di Cassifiori, Manuero Stadio a San Giorgio. Presidente del Tribunale di Roma, Mario Brestano. Segreteria Generale della Pettiglia di Roma, Alberto Cozzella. Presidente Cresciano comincerà leggendo messaggi del Presidente della Repubblica, Bartarella. Presidente del Tribunale di Roma, Presidente dell'Associazione Natale Magistrati di Roma, e partecipanti alla Notte Bianca della Legalità, in occasione della quale il Tribunale di Roma viene aperto agli studenti e delle scuole superiori del Lazio. Mi è gradito per aggiungere il saluto. L'iniziativa di offrire alle giovani generazioni un'occasione di incontro e di riflessioni sui temi centrali per la convivenza civile, quali la giustizia, la legalità e il rispetto delle regole, nella sede dell'ufficio giudiziario più grande dell'Europa, merita di coapprezzamento. È di grande interesse la formula innovativa scelta dai mediatori dell'incontro di promuovere un confronto diretto per agli operatori della giustizia e di giovani su questioni complesse come il funzionamento della giustizia, al fine di ampliare l'attenzione, le conoscenze e la sensibilità degli studenti arricchendo la loro maturità civica. La funzione giudiziaria è aspetto fondamentale della difesa della legalità. Gli ostacoli e le difficoltà seguono e possono essere superati con lo sforzo e l'impegno di tutti gli operatori del settore e le riforme di un giustizio della sensibilità e di valore del nostro Stato costituzionale democratico. Auspico quindi che la vostra notte bianca possa rappresentare per tutti i partecipanti un'occasione preziosa di approfondimento e di dibattito, capace di contribuire alla crescita civile delle nuove generazioni. Firmato Sergio Mazzarella. Innanzitutto non benvenuto a tutti quanti. Secondo l'unico devo sentitore di ringraziare in particolare l'Associazione Nazionale Magistrati della Giunta di Roma e non faccio i nomi ma sappiamo che l'idiatore è Giacomo Ebbene. Ma sono arrivato validamente da tutti gli altri componenti della Giunta e ringrazio oltretutto a tutti coloro che hanno partecipato. Giacomo già li ha ricordati, dal Presidente della Corte, alla Procura Generale ma anche alle Forze dell'Ordine e a coloro che vedo a baiotisolo qua, Pettino dei Pompieri, l'ammulanza, tutti quanti hanno partecipato. Ma un ringraziamento anche al personale di questo ufficio che oggi è venuto statisticando un po' di un voto per questa bellissima iniziativa. Io sono particolarmente felice di questa giornata perché è sempre stato un mio auspicio e anche un discorso forte di quello di avere un grosso contatto tra la giustizia e i giovani. L'ho iniziato una quarantina d'anni fa, non è più di 40 anni fa, in provincia di Foggio andando per le scuole, poi l'ho fatto in provincia di Milano e più recentemente al Tribunale di Uniti dove abbiamo celebrato tre processi simulati hanno avuto un tale successo che i ragazzi poi a scuola ne hanno fatto uno spettacolo messo poi sul DVD che mi hanno regalato. E i professori hanno detto che hanno notato un grande cambiamento di visione dei ragazzi dopo aver assistito a questo esperimento. La legalità è una cosa che è di essenziale importanza perché è quella che ci rende uguali. Tra legalità e articolo 3 della Costituzione c'è uno stretto legame. Viviamo tutti quanti meglio quando si rispettano le norme e allora la legalità ci rende tutti quanti uguali e su questo bisogna lavorare. E soprattutto voi giovani oggi potete veramente fare molto e trasformare un po' questo paese che mi sembra abbastanza intensi e mi sembra che forse soltanto voi potete veramente cambiare le cose. Auguri a tutti e buona serata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.